Sono tutti negativi alla variante Omicron i primi 400 test analizzati in Abruzzo. A rassicurare è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale, che a Teramo continua senza sosta il lavoro di sequenziamento dei tamponi anche di altre regioni. Questa indagine ha permesso di scoprire quattro casi di Delta Plus in Abruzzo. I timori delle autorità sono motivati dal sospetto che la Omicron abbia una maggiore trasmissibilità rispetto alla Delta, ma ha anche una maggiore capacità di eludere le difese del vaccino. Il tutto però non è ancora comprovato. I cacciatori abruzzesi della mutazione della variante per ora restano cauti e continuano a frenare gli allarmismi in attese di avere i primi risultati dei campioni di massa. Noi in questo momento stiamo sequenziando, come sapete, i campioni che arrivano già positivi dagli ospedali di Abruzzesi per dare un quadro completo in accordo con gli altri istituti che sequenziano, in maniera tale da foraggiare questo database che è gestito dall'Istituto Superiore di Sanità. La situazione preoccupa queste nuove varianti che stanno emergendo? Le nuove varianti sono un fenomeno assolutamente normale nell'evoluzione di un virus. Non ci devono preoccupare fino a quando queste varianti sono controllate dall'immunità vaccinale. Ecco perché quindi è importante continuare a tenere i livelli anticorpali molto alti. Questa nuova variante che è stata identificata in Africa, quindi la variante Omicron, che è un nome alquanto bizzarro, non deve preoccupare perché innanzitutto non ci sono dati concreti a sostegno della maggiore virulenza o trasmissibilità della variante. È una variante che presenta delle mutazioni nella proteina spike, ormai tutti conosciamo cos'è la proteina spike, ma non deve preoccupare perché quello che io penso, quello che noi pensiamo è che questa variante, pur presentando mutazioni nella spike, sia comunque controllata dall'immunità anticorpale. Si dirà alla fine che questa variante provoca un leggero calo di neutralizzazione, ma questo non significa che riesca a bucare la vaccinazione. Invece per quanto riguarda la Delta Plus? Ci sono stati dei casi, così come ci sono stati in altre regioni, è normale. La Delta Plus è una variante che fa parte del panorama, del corredo della variante Delta, è un sotto insieme della variante Delta, diciamo, che è la variante principale che circola in Italia in questo momento, così come in tante altre parti del mondo. Il consiglio è soltanto uno, sembriamo quasi dei dischi rotti. Il consiglio è vaccinarsi, quindi convincere chi non si è vaccinato e vaccinarsi per la prima volta, ma soprattutto chi può effettuare la terza dose, di andarla a fare, perché aumentare i livelli anticorpali significa avere maggiori probabilità di essere protetti, sia dall'infezione che dalla malattia, ma soprattutto dalla malattia, che è l'elemento fondamentale di una campagna vaccinale. Grazie. 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 Grazie.